Vorrei invitare intanto la nostra Presidente di Commissione Sport Svetlana Celli qui sopra insieme a noi oltre che essere una grande sportiva, una grande amica Franco Marino, Vice Presidente del Consiglio Comunale Presidente della Commissione Sport Municipio 3 sempre qui insieme a noi e poi vorrei salutare tutti quanti voi ovviamente ecco qua Svetlana noi stiamo portando avanti insieme a Svetlana, insieme a Roma, Luca Pancalli, Assessore allo Sport un progetto di rilancio totale di questo bellissimo villaggio che sarà destinato a diventare un villaggio sia invernale che in estivo quindi insieme a tutto quello che già voi conoscete sorgeranno altre attività come il Paddle che sarà il primo centro federale di nuovo sport che sta emergente nascerà il settore anche dell'arrampicata, il settore del beach quindi quattro campi da beach coetero, ora ne parleremo e Svetlana insieme a Luca Pancalli spero che ci aiuti in tutto quello non dal punto di vista economico ma dal punto di vista permesso, autorizzazione e tutto quello che oggi imprenditori avranno bisogno per portare avanti i progetti grazie Andrea e soprattutto grazie Andrea, grazie Stefano per noi è veramente un piacere essere un sostegno essere i partner, insieme a Luca Pancalli stiamo sostenendo ovviamente questi grandi progetti perché Roma Capitale ha bisogno di avere spazi che siano fruibili